Questo programma è offerto da Benvenuti a Ibiofarma, il format dedicato alla salute. Lo ricordiamo, Ibiofarma è un'azienda campana che nasce dall'unione di un team di professionisti della salute con l'obiettivo di sviluppare nutraceutici in grado di svolgere una funzione benefica sull'organismo. Di settimana in settimana con Ibiofarma e gli esperti parliamo di salute, di prevenzione e diagnosi. Oggi in collegamento con noi il dottor Pasquale Bacco, medico ricercatore. Buongiorno dottore. Grazie a lei per essere intervenuto anche oggi e oggi con lei andiamo a parlare di un tema davvero molto importante. Le infezioni nosocomiali. Dottore che cosa sono innanzitutto? Sono infezioni che vengono contratte nelle strutture ospedaliere, quindi sono infezioni che noi entriamo in ospedale per un motivo e purtroppo all'interno dell'ospedale ci infettiamo. Chiaramente i batteri ospedalieri, poi casomai dopo lo spiegheremo perché, sono molto più forti e molto più difficili da combattere rispetto ai batteri normali. La differenza tra infezioni nosocomiali e le infezioni correlate all'assistenza sanitaria? Perché questo è anche un altro termine che noi spesso sentiamo parlare, però non sappiamo di cosa si tratta. Almeno noi che non siamo medici ovviamente. No, in realtà sono la stessa cosa. Le infezioni nosocomiali vengono appunto da un osocomio, cioè strutture, appunto, come abbiamo detto, sanitarie. Mentre le ICA, perché il termine in realtà corretto è quello che ha detto lei, ICA, infezioni correlate all'assistenza sanitaria, sono la stessa identica cosa. Sono infezioni che si possono prendere soltanto all'interno delle strutture sanitarie oppure anche per coloro che hanno assistenza sanitaria anche domiciliare, ad esempio? Allora, sono molto rare nell'assistenza domiciliare. In quel caso dovrebbe portarlo l'assistente che interviene, cioè la persona che viene in casa nostra. In realtà sono nel 99,9% contratte in strutture ospedaliere e comunque nosocomi di natura sanitaria. Quelle più comuni quali sono? Purtroppo ultimamente ne abbiamo due che sono veramente terribili. Sono la Klebsiella, che tra l'altro è stata individuata anche in una famosa trasmissione di Rai 1 ultimamente, che in alcuni casi porta alla morte un paziente su due, è l'acinetobacter. Quindi l'acinetobacter e la Klebsiella sono quelle più importanti, però adicino a loro la pseudomonas, lo staphylococco a Eurus sono quelli ulteriormente comuni. Come si contraggono proprio le infezioni nosocomiali? Quali sono le cause e la prevenzione che possiamo mettere in atto per evitare di contrarre queste infezioni? Allora, il problema delle infezioni nosocomiali è che questi batteri, dobbiamo spiegarlo, questi batteri sono dei batteri che presi all'esterno delle strutture ospedaliere sono di solito facilmente combattibili. Nelle strutture ospedaliere questi batteri tendono a sviluppare delle resistenze molto forti nei confronti di antibiotici, ma addirittura dei più comuni disinfettanti. Quindi ci troviamo di fronte a degli elementi estremamente aggressivi e che purtroppo sono assolutamente, in alcuni casi, e questa è la cosa più incredibile, in alcuni casi sono incurabili. Cioè non abbiamo oggi nel mondo antibiotici capaci di combattere questo tipo di batteri. Voglio ricordare l'elemento, noi abbiamo 137 morti al giorno di infezioni nosocomiali, cioè 137 persone che muoiono senza essere entrate in ospedale infetti, ma che si infettano all'interno delle strutture ospedaliere. Come si contraggono? Si contraggono per lo più nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, o comunque tutti quei pazienti che hanno bisogno di cateteri oppure di protesi, e in quel caso diventa devastante l'azione di questi batteri, che in alcuni casi possono addirittura persistere per tutta la vita, quando siamo fortunati in realtà. La realtà è incredibile, l'Istituto Superiore di Sanità, ma soprattutto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio queste settimane ha lanciato un grido d'allarme. Entro il 2030 si parla di 50 milioni di morti. Come possono essere combattute? Purtroppo l'attività deve essere all'interno delle strutture ospedaliere. Sono i medici che devono, bisogna aumentare la disinfezione, la disinfestazione delle strutture, bisogna mettere sempre i guanti, bisogna isolare in maniera attenta i pazienti che hanno determinate patologie. Noi, come sai, io ho scritto un libro con l'Avvocato di Monda su questo, proprio quest'anno, che si chiama Particelle Cadaveriche, e noi raccontiamo di elementi incredibili, cioè di persone che entrano in ospedale per togliere una piccola cisti e divenne amputata la gamba, o persone che trovano l'arbe di mosca nelle ossa, cioè diventano degli elementi assolutamente imbattibili. È una cosa estremamente sottovalutata, però è una vera e propria strage silenziosa in questo momento. Stiamo tornando più di 150 anni indietro. Il problema più grande è l'uso spropositato di antibiotici che noi facciamo, cioè noi abbiamo utilizzato talmente tanto gli antibiotici che non abbiamo più antibiotici per combattere queste cose. Dobbiamo ricordare a tutti che gli antibiotici vanno utilizzati solo ed esclusivamente quando c'è un rialzo della temperatura, la cosiddetta febbre, e vanno utilizzati una volta iniziati per tutto il loro ciclo. In merito proprio a un altro tema, proprio di queste settimane che si sta molto parlando, è quello dell'antibiotico resistenza. In molti casi gli antibiotici non fanno più effetto, ma non perché non sono buoni, ma perché ne abbiamo abusato anche senza alcuna prescrizione, possiamo dirlo? Sì, sì, l'abuso degli antibiotici nel mondo è qualcosa di spaventoso, ripeto, ci siamo già, cioè noi oggi già abbiamo, mi rendo conto che per chi non si occupa di questo problema è qualcosa di assolutamente lontano, ma noi oggi in tutte le strutture ospedaliere, tutte, nessuna esclusa, abbiamo soggetti che sono infettati all'interno delle strutture ospedaliere, per cui non abbiamo antibiotici. Cioè sono persone che o muoiono, oppure devono convivere per tutta la vita, sperando che il batterio non prenda il sopravvento, perché è l'unico elemento. Cioè noi oggi nel mondo ci sono tanti batteri, i più comuni sono i 4, quei 4 o 5 che ho detto prima, sempre a livello ospedaliero, per cui non abbiamo più antibiotici. Cioè noi abbiamo casi di acinetobacter, di soggetti anche giovanissimi, che non possiamo più curare. La clebsiella, ripeto, la clebsiella è uno, forse la peggiore. Abbiamo la clebsiella contratta nelle strutture ospedaliere, in terapia intensiva e in sala operatoria, oggi porta alla morte una persona su due. Cioè è qualcosa, quindi io entro in ospedale ed esco cadavere. Entro in ospedale per fare una piccola cisti, una piccola ferita, una piccola revisione di un intervento, e mi trovo in una situazione devastante, cioè infettato e non più guaribile. Dottore, quindi possiamo dire alla luce di ciò che il fai da te, le cure fai da te, creano davvero molti danni, tra questi anche la resistenza agli antibiotici. Quindi, lei che cosa si sente di consigliare ai nostri telespettatori? quando usare gli antibiotici e come usare gli antibiotici? Gli antibiotici vanno utilizzati in linea di massima, poi è chiaro che bisogna sempre confrontarsi con il proprio medico, solo quando si ha febbre, prima di tutto. Quindi ci deve essere una situazione, e vanno utilizzati in estrema razio, cioè nel senso deve essere una condizione, se abbiamo, perché noi vediamo delle cose incredibili come medici, vediamo persone che hanno mal di testa e prendono l'antibiotico, il problema dell'antibiotico, soprattutto una volta iniziato va terminato, perché se noi dobbiamo prenderlo per tre giorni o cinque giorni, prendiamo per due giorni, i batteri all'interno del nostro organismo svilupperanno una resistenza a questo antibiotico. Tra l'altro, l'utilizzo spropositato di antibiotici va ad uccidere pure i cosiddetti batteri buoni, cioè noi all'interno del nostro organismo siamo ricchi, pieni, la cosiddetta flora batterica, l'elemento più importante in questo senso, di antibiotici che ci permettono la vita, senza i quali non potremmo vivere, però l'attacco e l'utilizzo spropositato degli antibiotici porta alla morte anche di antibiotici che invece ci permettono di vivere meglio. Quindi l'antibiotico è preso solo su prescrizione medica, solo quando c'è la pebbre, solo quando veramente ce n'è bisogno, altrimenti assolutamente evitare. Con il biofamma noi parliamo anche di prevenzione, dottore, ed è fondamentale. Adesso siamo in primavera, anche se le condizioni climatiche sembrano più autunnali che primaverili, come possiamo comportarci per fare prevenzione e quindi stare anche in salute? Noi abbiamo sempre detto con lei, lei sa benissimo, che la cosa più importante è mangiare bene poco, fare una buona attività fisica, che non significa necessariamente la palestra, anche perché in questi ultimi due anni abbiamo appunto da fare poca, ma muoversi, 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 prendere le scale invece dell'ascensore, non prendere la macchina quando ci dobbiamo spostare di 100 metri, cosa che noi lo facciamo facilmente, anche al sud, soprattutto al sud, e quindi stare molto attenti ai segnali del nostro corpo. Biofarma ha una serie di integratori che sono spettacolari, favolosi, che presici letteralmente possono assolutamente aiutarci ad affrontare e soprattutto andare a potenziare il sistema immunitario, perché la cosa più importante che noi abbiamo all'interno dell'organismo è il sistema immunitario. Lei sa che sono un fan della spirulina che prendo da tanto tempo, da quando la prendo, ringraziando Dio, le cose vanno tanto bene, però ci sono anche tanti prodotti, e Biofarma, certo difesa gold è quello più conosciuto, più utilizzato, però ce ne sono tantissimi altri, anche gli ultimi, privilegiare dall'altro quello che fa i Biofarma, prodotti vegani e biologici, perché sono prodotti che sicuramente vanno ad interferire poco con quella che è la regolarità del nostro organismo. Gli integratori sono importanti perché potenziano il nostro sistema immunitario, e il sistema immunitario è la nostra vera difesa, il nostro guardiano contro le malattie, di qualsiasi tipo. Una buona difesa immunitaria ci permette di, a volte anche di evitarla, al momento della temperatura corporea, e quindi anche ricorso a questi antibiotici benedetti, perché ci permettono di vivere, ma in alcuni casi, quando lo utilizziamo male, assolutamente benedetti. E' vero. Dunque, vogliamoci bene, vogliamo bene il nostro sistema immunitario, che spesso lo sottovalutiamo, quindi, e invece non deve essere così, anzi, sia attraverso l'alimentazione, che gli integratori alimentari, possiamo davvero dare un supporto importante al nostro sistema immunitario, ad aumentare le nostre difese, quindi difese, che poi ci aiutano a contrarre meno infezioni, a stare anche meglio, possiamo dirlo, no? Siamo meglio, stiamo meglio, quando il nostro sistema immunitario funziona, ricordiamoci che il sistema immunitario è importantissimo, anche contro patologie gravissime, quindi gli integratori, noi con la Biofarma abbiamo lavorato tanto, anche su integratori, da utilizzare affiancandoci a patologie anche più importanti, patologie gravi, come possono essere patologie di natura tumorale, patologie cronico-degenerative di varia natura, quindi il sistema immunitario è quello che ci permette proprio, è la nostra prima difesa, il primo attacco, quello che entra nel nostro organismo, che sia una malattia cronica, che sia un batterio, che sia un virus, incontra per prima il nostro sistema immunitario, più efficace, più l'abbiamo trattato bene, più l'abbiamo supportato, anche attraverso gli integratori, quando è necessario, e più noi reagiamo bene, il nostro organismo sta meglio. Dottore, io la ringrazio per essere intervenuto oggi ai Biofarma, e ha parlato, ecco, di questi temi così importanti, come le infezioni nosocomiali, e la resistenza agli antibiotici, in conclusione, quindi consigli che possiamo dare ai nostri telespettatori? mai il fai-da-ti, mai, l'antibiotico deve essere un farmaco da utilizzare, piuttosto utilizziamo un buon integratore, lei sa, ripeto sempre, lei mi prende anche un po' in giro per essere un fan della spirulina, però la spirulina è quello che contiene tutto, o comunque qualsiasi integratore più di nostro, diciamo, gradimento, ce ne sono tanti, per andare ad affrontare, anche perché anche in estate c'è bisogno degli integratori. E come no, come no, dobbiamo risvegliarci, no, dall'autunno e gli integratori ci aiutano a dare quell'energia, quella carica. Grazie ancora dottore, ci vediamo prossimamente sempre ai Biofarma per parlare sempre di salute e prevenzione. Grazie mille dottore. Grazie di cuore, grazie di cuore. I Biofarma, come di consueto, vi dà appuntamento alla settimana prossima per parlare sempre di salute e benessere. Questo programma è offerto da a per parlare sempre di salute e benessere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.